Ciao a tutti, sono Alfredo Giuso, scouter e recruiter di Lions Bergamo e head coach dei Pirates Savona. Vi aspetto tutti il 3-4 novembre alla convention a Bologna dove parleremo, nel mio caso per quello che riguarda Project World, delle meccaniche del patinaggio artistico applicate al ruolo di ricevitore per quello che riguarda la delizia. Grazie a tutti, mi stanno facendo ridere, non va bene, poi ti punisco. Ciao, grazie.